Benvenuti al canale Cagliari News, la vostra fonte di notizie calcistiche. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le novità della Cagliari. Il Cagliari è un club italiano con una ricca storia e tradizione. Nel corso degli anni, molti giocatori talentuosi hanno indossato la maglia del club lasciando un segno indelebile. In questo articolo, metteremo in evidenza i 10 migliori giocatori nella storia del Cagliari, coloro che hanno incantato i tifosi e scritto pagine importanti con la maglia rosso-blu. 1. Gigi Riva, il più grande idolo nella storia del Cagliari. Riva è una leggenda del calcio italiano, un attaccante abile, un prolifico realizzatore di reti e un leader in campo. La sua presenza nel club negli anni 60 e 70 ha segnato un'epoca di successo per il Cagliari. 2. Gianfranco Zola, uno dei talenti più grandi d'Italia. Zola ha brillato con il Cagliari prima di diventare un nome riconosciuto a livello internazionale. L'abile attaccante ha incantato i tifosi con la sua tecnica raffinata, dribbling disorientanti e gol spettacolari. 3. Enrico Albertosi, un altro portiere di spicco nella storia del Cagliari. Albertosi ha contribuito alla conquista dello Scudetto nel 1970. La sua abilità e imponente presenza nell'area di rigore lo hanno reso una figura temuta dagli attaccanti avversari. 4. Daniele Conti, un vero simbolo del Cagliari. Conti ha dedicato più di 15 anni della sua carriera al club. Il centrocampista era noto per il suo impegno, leadership e qualità tecnica, diventando uno dei giocatori più amati dai tifosi. 5. David Suazzo, l'attaccante honduregno è stato una delle stelle del Cagliari all'inizio degli anni 2000. Con la sua velocità, abilità e fiuto del gol, Suazzo è diventato uno dei giocatori più elettrizzanti a indossare la maglia rosso-blu. 6. Nene, il centrocampista brasiliano ha avuto una brillante esperienza al Cagliari, distinguendosi come uno dei protagonisti della squadra durante il suo periodo nel club. 7. Nene era conosciuto per la sua abilità con il pallone, la visione di gioco e la capacità di segnare gol importanti. 7. Pierluigi Cera, difensore solido e affidabile, Cera è stato una presenza costante nella difesa del Cagliari negli anni 70. La sua tecnica di marcatura impeccabile e la leadership in campo lo hanno reso uno dei migliori difensori nella storia del club. 8. Roberto Muzzi, l'attaccante italiano ha lasciato un segno indelebile al Cagliari negli anni 90. Con il suo fiuto del gol affinato e le abilità tecniche, Muzzi ha contribuito in modo significativo, segnando molti gol importanti. 9. Enzo Francescoli, sebbene abbia trascorso poco tempo al Cagliari, il centrocampista uruguaiano è stato in grado di incantare i tifosi con la sua classe ed eleganza in campo. Francescoli ha mostrato abilità tecniche eccezionali e la capacità di creare azioni memorabili. 10. Luigi Piras, conosciuto come il Gigi Piras, è stato uno dei più grandi portieri nella storia del Cagliari. Negli anni 60, Piras si è distinto tra i pali, mostrando riflessi incredibili e sicurezza nelle sue parate. Questi sono i 10 migliori giocatori nella storia del Cagliari Calcio, un club che riempie di orgoglio i suoi tifosi e vanta una ricca tradizione nel calcio italiano. Questi atleti hanno lasciato un'eredità indimenticabile con le loro abilità, leadership e amore per la maglia rosso-blu. Il loro contributo è stato fondamentale per il successo del club e saranno sempre ricordati come veri e propri icone nella storia del Cagliari. E tu, tifoso rosso-blu, sei d'accordo con questi nomi? Lascia la tua opinione nei commenti, perché è molto importante per il Cagliari.